Lo Spezia è una squadra molto quadrata, con dei giocatori importanti davanti, che hanno qualità. Sanno bene anche leggere le situazioni della partita, essendo una squadra anche esperta. Io l'avevo visto fra l'altro a Cittadella giocare quando ha fatto 1-1 e ha fatto una buona impressione la squadra organizzata, perché Gallo è bravo su questo, sull'organizzare la squadra, perciò noi sappiamo che sarà una partita tosta, difficile, però noi dobbiamo andare in campo, sereni e fare la nostra partita, senza pensare a nient'altro, concentrarsi su quello che dobbiamo fare e basta. Per quanto riguarda Gallo, un grandissimo rapporto, abbiamo fatto insieme con l'anno strepitoso a Treviso, era già un allenatore in campo, perciò grande stima da parte mia. Sia come giocatore, che come allenatore, ma soprattutto come uomo, come persona. Noi quando abbiamo fatto bene a Palermo, abbiamo fatto bene in casa, quando abbiamo giocato alti, quando abbiamo giocato alti, se noi stiamo lì, aspettiamo, vediamo, non siamo una squadra che può stare lì e aspettare, da come l'ho vista io in queste partite. Noi siamo una squadra che deve essere aggressiva e giocare io a giocare e basta, perché se non giochiamo non ne vediamo fuori. E attraverso il gioco dobbiamo ottenere il risultato. Per spigliare mentalmente. Sì, perché abbiamo visto Palermo, Bari, primo tempo di Bari, secondo tempo contro il Bari, squadra diversa. E quello ci deve far capire come dobbiamo andare a affrontare la partita. Per esempio a Vercelli non mi sono piaciuti i primi dieci minuti un po' timorosi. Timorosi, no andiamoci, andiamo a aggredire, facciamo quello che dobbiamo fare. Senza, purtroppo la situazione è questa, capisco tutto, ma andiamo a fare quello che dobbiamo fare. Dobbiamo avere le palle, bisogna tirarle fuori, insomma. Si gioca a calcio, non è che siamo in ospedale, si gioca a calcio, giochiamo. Io mi auguro che il pubblico, come ci ha dato una mano col Bari, ce la dia domani. È essenziale per noi in questo momento che il pubblico sia dalla nostra parte, che ci spinga anche oltre, come ha fatto con i Bari. Perché grazie all'apporto del pubblico siamo riusciti a rimediare una partita quasi compromessa. E grazie a loro, grazie anche ai ragazzi che hanno spinto ulteriormente, siamo riusciti a metterla a posto.